Qui siamo nel cuore di Selinunte e grazie alle attività di pulizia di diserbo che sono state predisposte dalla direzione del parco, dal direttore crescente, ecco adesso è possibile nuovamente avere una visione di insieme, sia pure parziale, di quella che era la Gorà qui a Selinunte ed è bello perché dà l'idea della magnificenza di questa città.